Grazie a tutti. Adesso invece ci dirigiamo a Senigallia con il nostro Ciro Montanari che ci fa il punto della situazione a distanza di un anno e mezzo da quel 15 novembre del 2022. Quando è successo l'alluvione di cui tutti noi sappiamo e che noi di Vera TV in particolare abbiamo seguito passo passo e ogni istante, da quell'alluvione ancora tanta gente è rimasta fuori casa. Ci sono delle situazioni che ovviamente dopo così tanto tempo arrivano all'assurdo e sicuramente per tanti non è facile vivere giornalmente. Ciro, buongiorno. Buongiorno Daniela, hai detto che sembra incredibile, però pensate che a distanza di quasi 19 mesi, perché dal 15 settembre del 2022 ad oggi sono trascorsi quasi 19 mesi dal giorno dell'alluvione, ci sono ancora una trentina di persone sfollate fuori di casa. Sembra incredibile, però questa è la reale situazione, persone che aspettano di avere informazioni, aspettano di capire se la loro abitazione potrà essere sistemata, aspettano di capire come potrà essere sistemata, aspettano di capire se arriveranno i soldi, aspettano di capire se dovranno ancora rimanere in albergo oppure nell'RSA, perché molti di loro si trovano per l'appunto in strutture assistenziali. Noi li abbiamo incontrati e proprio oggi nelle giornali dell'ore 13 e 30 realizzeremo un eservizio per mandare in onda le loro voci, le loro testimonianze e io vi assicuro che sono davvero toccante. Ci sono delle persone anche ultra settantenni che vivono in una casa di riposo e dicono io non ce la faccio più, io non ce la faccio più, non ho la mia vita, non ho le mie abitudini, non ho la mia sicurezza. Ci sono famiglie intere che vivono in albergo, abbiamo incontrato una coppia con tre figli che da più di 16 mesi si trova in questo albergo, mentre prima era stata posizionata in un altro luogo. E qui ha delle condizioni veramente esasperanti, ci lamentano del fatto che ovviamente oltre a mancare l'intimità manca la possibilità di poter fare una vita normale da tutti i punti di vista, anche perché insomma con tutta la gentilezza degli albergatori che li ospitano la situazione è davvero preoccupante da tutti i punti di vista. Insomma sono voci veramente importanti che a noi fa piacere mandare in onda, sottolineare perché queste cose debbono essere note, queste cose debbono soprattutto essere ricordate, perché spesso ci si dimentica di queste persone, ci si dimentica di queste famiglie che a distanza di 19 mesi ancora sono sfollate, ancora sono fuori di casa e soprattutto ancora non sanno niente, perché fondamentalmente il problema è questo, se sapessero guarda la mia casa è in queste condizioni però da 5 mesi, 8 mesi è iniziato il lavoro di ripristino, tra 5 mesi sarà pronta eccetera eccetera, allora è un discorso diverso, invece ancora lamentano il fatto di non essere stati informati di nulla da questo punto di vista. Tra l'altro non dimentichiamo che l'amministrazione comunale di Senigallia continua a pagare le quote aspettanti alle RSA e alle strutture alberghiere che ospitano queste persone, poi rendi conterà ogni volta alla struttura commissariale della regione Marche che di conseguenza prenderà dalle casse dei fondi di soldi stanziati dal governo, non mica perché questo è un dato sbagliato, assolutamente al contrario, ma di certo insomma sono soldi importanti che vengono continuamente spesi per queste famiglie che ancora non riescono a trovare risposte per la loro futura sistemazione in alloggi oppure soprattutto per poter tornare nelle loro case. Ci sono delle storie anche davvero incredibili con persone che hanno visto morire i familiari, ad esempio c'è la voce di Danilo Petrolati che è il figlio di Gino, Gino Petrolati è un uomo che è una delle 13 vittime dell'alluvione del 15 settembre 2022, lui l'ha visto morire dentro la propria abitazione e lui lì vuole tornare a vivere, però ancora purtroppo è costretto a stare in RSA. Sentiremo tutte le loro testimonianze nelle ore 13 e 30 con un servizio appositamente realizzato con tutte queste persone che abbiamo raccolto assieme davanti a una delle strutture alberghiere che li ospita. Ecco, infatti appunto tu hai realizzato il servizio che stamattina stai preparando proprio su questo e Danilo è una delle voci, delle tante voci che hai appunto detto, ma tu ne hai raccolte tantissime adesso al di là di queste specifiche sul fatto che stanno vivendo ancora fuori come hai ricordato in strutture alberghiere o RSA e quando ne parlavamo di questo articolo, di questo servizio da fare, insomma riflettevamo proprio sul fatto che pensare di poter vivere non per scelta ma per estrema necessità in una RSA, magari per un anziano che è ancora autosufficiente e che in qualche modo vede la sua prospettiva di vita un po' chiudersi, perché magari non riesce a vedere l'orizzonte e come spesso e volentieri decidiamo di tenere a casa i nostri anziani per poter dare loro ancora altri stimoli che magari lì non troverebbero se non per loro scelta andare in quei luoghi quindi pensiamo quanto possa essere duro affrontare un'attesa così incerta di una vita che possa tornare alla normalità ma che forse per loro non ci tornerà, cioè questo è drammatico, quindi volevamo sottolineare penso Ciro che tu l'abbia fatto e lo farai egregiamente proprio questo aspetto Assolutamente, tu hai sottolineato questo aspetto importantissimo, c'è la voce di un ultra settantenne che dice proprio questo, che dice che veramente non ci riesce più e poi mi piace anche rimarcare una cosa, che tutte queste persone sono aiutate dal comitato degli alluvionati come intanto imprese tra i due fiumi che in qualche maniera negli ultimi mesi è riuscito a dar loro delle speranze perché contattando tutti gli amministratori e gli organi di riferimento è riuscito in qualche maniera ad aprire una strada anche con la consulenza legale per poter arrivare a qualcosa di concreto però insomma se non ci fosse questo davvero queste persone sono spaesate sono in mezzo a una strada, sono in tutti i sensi in mezzo a una strada veramente in tutti i sensi in mezzo a una strada noi abbiamo documentato con le nostre telecamere anche i loro, i segni dei loro occhi dei loro volti, delle loro sofferenze e insomma io vi invito davvero a seguire questo servizio che andrà in onda oggi nel telegiornale delle 13.30 perché è una cosa che non si può dimenticare sono passati 19 mesi, non si possono abbandonare le persone non sono abbandonate queste persone però non hanno certezze purtroppo non sanno se e quando torneranno nelle loro abitazioni non sanno se e quando partiranno i lavori di ripristino nelle loro abitazioni non sanno se e quando arriveranno i soldi per loro per poter gestire i lavori di ripristino quindi ecco, non dimentichiamoci mai di quello che continua a cadere dalle doppolovine sono state fatte tante cose importantissime la pulizia del fiume è una cosa che non avveniva da oltre 40 anni e adesso davvero, adesso davvero il fiume è in condizioni strepitosamente ottimali da tantissimi luoghi non manca ancora qualcosa ma da tantissimi luoghi è veramente così e non accadeva da oltre 40 anni quindi grande applauso a chi ha lavorato da questo punto di vista però davvero, attenzione anche al fattore umano per il quale purtroppo la burocrazia troppo, troppo, troppo lenta sta causando situazioni come quelle che abbiamo documentato oggi Grazie al nostro Ciro Montanari che tornerà appunto nel Tg dell'ora di pranzo con questo servizio che vi raccomando di seguire sicuramente molto, molto importante e bello andiamo invece adesso, torniamo invece un giudice dal nostro Thomas Delbianco che ci racconta invece una storia particolare perché il titolare di una struttura era stato insomma imputato di stalking insomma denunciato per stalking da una sua dipendente una donna di 29 anni e il giudice invece poi l'ha assolto andiamo a sentire com'è andata con il nostro Thomas Delbianco Sì Daniele è una storia veramente particolare questa ragazza di 29 anni che è stata assunta in questa azienda il fatto è stato reso noto attraverso il percorso giudiziario che si è concluso proprio ieri questa ragazza di 29 anni è stata assunta come apprendista in un'azienda all'interno della quale si è trovata in una situazione di forte disagio un forte stretch che poi lei stessa ha raccontato in tribunale dovuto alla presenza di quest'uomo che gestisce l'azienda insieme alla moglie di cui è consulente commerciale è una continua per quanto come richiesto da giudice con l'accusa di maltrattamenti e stalking è una situazione nella quale la ragazza si è trovata in più occasione a doversi difendere a dover andare al lavoro nonostante situazioni in cui aveva anche subito delle malattie tant'è che ha raccontato di essere andata sul luogo di lavoro con tre vertebre fratturate pressioni continue come quella di votare per un partito che lei non voleva votare quindi si è trovata in più queste situazioni così come altre minacce come ha raccontato sospensione del servizio dei mansionamenti che si è ritrovata a fare le pulizie si è arrivati al processo la causa per il licenziamento in precedenza si è conclusa con un risarcimento alla ragazza di 16 mila euro si è arrivato il processo con l'accusa da parte del PM una condanna a due anni l'accusa per maltrattamenti sul luogo di lavoro e stalking ma il giudice non ha ravvisato che ci fossero gli estremi per condannare con questi capi d'accusa tant'è che ha assolto l'uomo il 53enne anche ascoltando diversi colleghi di lavoro i quali hanno riferito che sì ci erano prefigurati situazioni nelle quali c'era mostrata aggressività da parte dell'uomo ma sicuramente non è quello che è stato raccontato dalla ragazza queste ovviamente sono le due versioni alla fine il giudice ha deciso di assolvere l'uomo Bene, bene Thomas insomma una vicenda che solitamente siamo abituati invece ad ascoltare al contrario si è conclusa proprio ieri con l'assoluzione del titolare grazie a Thomas Delbianco buon lavoro anche a te a domani mattina a domani mattina è vero a domani mattina con altre notizie dal pesarese ebbene noi nel frattempo che attendiamo proprio qualche istante per ricollegarci con la nostra Jessica Balestra che nel frattempo si è spostata e ci parlerà di un altro argomento noi andiamo invece volevo darvi una notizia che è insomma dal territorio maceratese come anche anconetano visto che si trova il confine insomma abbiamo sempre tenuto a sottolineare insomma siamo sempre stati attenti ricordate il sindaco di Matelica Massimo Baldini che dopo un incontro con tutte le autorità due mesi fa circa incontro con l'inaugurazione di un centro nel vicino paese di Sanatoglia se non erro mentre alla presenza appunto di Acquaroli del senatore del senatore Guido Castelli e di tanti altri sindaci del territorio nell'andare a riprendere la sua auto intorno alle 19-20 della sera quando ormai l'ora era buia in un luogo altrettanto buio a causa di una caduta è inciampato ed è caduto battendo fortemente la testa da quel momento è iniziata l'odissea per il sindaco Massimo Baldini per la sua famiglia tutta la popolazione è molto vicina si è stretta vicino ai familiari perché l'uomo è stato portato a Torrette operato d'urgenza per questo trauma tenuto in coma farmacologico e ancora le sue condizioni insomma non sono delle migliori quindi la comunità proprio in occasione del suo compleanno ieri 9 aprile gli ha scritto una lunga lettera la città si è stretta proprio attorno al sindaco nel giorno del suo settantaquattresimo compleanno proprio dicendogli Massimo siamo tutti con te ti amiamo ti aspettiamo ti diamo la forza insomma per andare avanti stiamo vicini ai tuoi familiari non li lasciamo mai ma abbiamo ancora bisogno di te a Mattelica tra poco ci saranno le elezioni insomma ovviamente la città si sta muovendo al riguardo ma insomma tutta la cittadinanza è legata legatissima a questo sindaco amato da tutti e poi in queste condizioni insomma e quindi volevamo darvi un ulteriore aggiornamento su questa situazione che veramente ha reso insomma sicuramente un momento di grande tristezza tutta la comunità noi continueremo ad aggiornarvi per il momento possiamo solo stringerci intorno al sindaco e familiare e fargli di nuovo i nostri migliori auguri di buon compleanno e con la speranza insomma che tutto si risolva il più presto bene torniamo come dicevo dalla nostra Jessica che rivedo ancora in studio però andiamo a dare una notizia continuiamo con le nostre notizie di cronaca perché insomma sempre da grotta a mare c'è un fatto sicuramente molto particolare di cui ci racconterai sì esatto Daniela ci troviamo sempre nei nostri studi beh è un caso singolare e anche pericoloso ecco nella sua spettacolarità immaginate qualcuno in balia di una psicosi è la storia di questo uomo che domenica scorsa ha convinto di essere vittima di un incantesimo di un sortilegio ha deciso di disfarsi di tutti quegli oggetti affetti personali che potevano in qualche modo almeno nella sua mente essere associati a questa specie di sortilegio che nella sua testa avrebbe subito e che cosa ha fatto ha preso ha radunato tutti questi oggetti indumenti e altri affetti di varia natura e li ha portati in un cassettone un cassettone pubblico quindi un cassettone della spazzatura e poi non pago ha piccato il fuoco bruciando secondo quello che è un rito per chi crede insomma a queste cose che sono assolutamente vaneggianti che prevede appunto di cospargere insomma di una sostanza infiammante tutti i vari oggetti che appartengono alla persona oggetto del presunto sacrilegio e di dargli fuoco immaginate questo ha creato una situazione di vero e proprio panico tanto è vero che sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto che hanno messo in sicurezza la zona hanno spento le fiamme ma sempre gli stessi vigili a distanza di pochi minuti sono dovuti intervenire nuovamente sul posto parliamo di una traversa nella zona nord della cittadina di Grotta Mare siamo alle porte a nord di San Benedetto del Tronto perché la stessa persona aveva piccato un altro incendio sempre in prossimità di un cassonetto della spazzatura e beh a quel punto insieme ai pompieri sono arrivati anche i carabinieri e il personale del 118 che hanno caricato l'uomo e lo hanno trasportato in ospedale dove poi è stato ricoverato una vicenda assolutamente sgradevole ma anche preoccupante perché le conseguenze ecco di questo gesto del tutto in consulto sarebbero potuto essere molto gravi assolutamente sì ci troviamo a parlare di una storia che ci ricorda anche la cronaca nazionale anche se in maniera più blanda quella che è accaduta un mese fa circa della setta siciliana che ha visto poi perdere la vita per mano del padre di famiglia alla sua moglie con i figli insomma quindi noi vi diamo queste notizie anche per richiamarvi all'attenzione di quella che è una situazione una condizione che molto spesso di plagio che vivono le persone più fragili più deboli e che si appigliano magari a situazioni poco poco ortodosse chiamiamole così bene Jessica io ti ringrazio molto per il contributo di questa mattina buon lavoro so che sei impegnatissima e ti abbiamo rubato un sacco di tempo grazie ancora dovere dovere buon lavoro Daniela e buon proseguimento a voi e allora rientriamo in studio tra poco appunto ci dedicheremo invece alle notizie provenienti dal maceratese ci collegheremo con la nostra amica e collega giornalista di Cronache maceratesi Alessandra Pierini per fare il punto della situazione ma anche con il nostro Sergio Cinquino che ci anticiperà insomma qualche voce che è andata a raccogliere nella zona di Castelplagno sul caso di Andrea Rabciuk ancora il processo sta andando avanti non ci sono novità per il momento ma poi sentiremo alcune voci intanto noi ci fermiamo per qualche momento e poi ritorniamo in onda tra poco con le notizie dai territori grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!